Ciao traders, siete su ScalpinoBull Questo è quello che vedete di Bitcoin Io praticamente mi sono addormentato ieri sera presto verso le 10 e mezza Alle 10 e 45 Il primo crollo Il secondo crollo stamattina Col cambio candela Stiamo andando giù ragazzi Siamo a Schiaffoni Day Siamo a 32.400 Andiamo subito al daily E ieri con questa accelerazione dalle 10 appena mi sono addormentato Accelerazione di basso e ha fatto chiudere sotto questo livello Che era il livello sotto il corpo più basso Questo era il punto in cui queste due candele erano riuscite a star sopra La zona pericolo Poi ha rimbalzato Poi ha fatto questa finta Quel giorno che doveva fare il mega breakout Non l'ha fatto Infatti quel giorno dopo schiaffoni schiaffoni Poi la 10 ha continuato a tenere Adesso niente Ieri dalle 10 e 3 quarti Accelerazione di basso Con chiusura candela Alle 2 qua sotto Quindi malissimo Malissimo Stamattina aperto Ha fatto addirittura un pelesimo di verde E mi sono svegliato prestissimo Perché appunto io ho visto il cambio candela verso le 3 Ho visto che era in verde Ma mi immaginavo poi che potesse andare a scendere E niente Sveglia 5.30 Da solo ovviamente E niente Stiamo andando giù Allora Vediamo Per adesso Niente panico Nel senso che Non ha fatto mega strapponi Quelli proprio grossi grossi Però manca pochissimo Ragazzi Siamo a 32 E 8 Il minimo è stato Andiamo su un minuto Andiamo su un minuto Così vediamo qua Eccolo il minimo 32 3.50 Manca veramente poco 32 3.50 3.50 Le candela Comunque Il Super panico non c'è ancora Però qua Butta male Allora Abbiamo tolto tutte le ombre qua Abbiamo superato tutte le ombre E niente Mancano anche queste qua Addirittura Mancano solo due ombre Che praticamente Allora Prossima ombra 3.100 Fai 3.000 31.000 Scusa E 120 Fai 31.200 Ok 31.200 Arriviamo in zona Pericolo C'è zona Di panico Totale Ok Ricordiamo Qua siamo arrivati In zona 30.000 Questa giornata Questa giornata Di mega Candelona Dove qua Addirittura Si è bloccato Ricordiamo Si è bloccato Binance Ok Quindi Short Chiusure Cose varie In realtà Chiusure di Chi era long Ha bloccato il sistema Chi era short È riuscito a salvare La situazione Ma chi è andato Il problema Era chi era andato long Che a un certo punto È saltato tutto Chi è long In marginazione O comunque non Aveva messo gli stop A un certo punto È saltato tutto insieme E il problema È qua È proprio questo Ok Adesso Dove hanno messo Di massa Gli stop Io ho paura Che li abbiano messi qua 31.200 Da 31.200 In poi Mi sa che c'è Proprio Il stop di massa E quindi Qua c'è il rischio Di bombardamenti Vedremo Ok Il meccanismo è quello Non sono chi va short Ma il problema È chi è long Che a un certo punto Se sei long In marginazione Devi chiudere E bisogna vedere Dove Il primo rischio È qua Ok Comunque Chi è passato qua Inizierà a capire Lunga serie Di candele rosse infinite Poi arriva lo strappone Che blocca tutto Vedremo E Comunque Cosa succede Se andiamo in zona panico Quindi arriviamo A questi 31.200 Niente 30.000 Sfondiamo con niente E chissà dove andiamo Chissà dove andiamo Chissà dove andiamo Questo è 24.000 24.000 potrebbe essere un supporto Questo piccolissimo Qua ha fatto da resistenza Potrebbe fare da supporto Comunque Magari dai 25.000 25.000 Vediamo Vediamo cosa succede Allora Momenti importanti della giornata Allora Apertura dell'Europa Che secondo me Però potrebbe andare A rimbalzare Da qua All'apertura dell'Europa Ma Il momento Super critico È dalle Lune e mezza Due Ok Quando iniziano a svegliarsi Gli americani Vediamo cosa succede lì È sempre il momento Più Speculativo della giornata Questa data qua È andato a crollare Verso le due e mezza Qualcosa del genere Quindi comunque Un'ora prima Dall'apertura del Nasdaq E Comunque Normalmente Tutti i giorni Dall'una e mezza In poi È il momento Diciamo più speculativo Quindi Vediamo cosa succede Oggi Verso quell'ora lì Fate attenzione Oggi Può essere Tranquilamente Un rimbalzo A un certo punto Non è detto Che si va Per forza A sfondare Vediamo Però Butta male Questa chiusura di candela Butta malissimo Quindi magari Viene fuori Qualche mega notizia Incredibilmente Positiva La Cina Accetta Pagamenti Bitcoin Allora Arriviamo 54.000 Subito oggi Ma altrimenti Insomma Dai Vediamo Vediamo cosa succede Un passo alla volta Tanto Chi mi segue Sa che Meglio star liquid In questi momenti qua Vediamo Allora Andiamo a vedere gli altri Ethereum Qua è il daily E niente Siamo tornati sotto Ero in bilico Sulla 60 Poi anche ieri Poi la fine è crollato Cioè Ieri noi A un certo punto Su Ethereum Eravamo in un momento In cui si pensava Che arrivasse Sui 3.000 Cioè Quindi Penso quando era qua Era 2008 Detto Fra poco arriva 3.000 Fintone Chiusura sotto Non la 60 Non la 10 Non la 5 Ma Sotto addirittura Niente Qua stiamo andando Sta buttando mano Anche Ethereum BNB Come non detto Dopo il video di ieri Insomma Accelerato Quindi era la giornata Perfetto per andare Short Ieri Dopo l'ICO Dodge Dodge Candeline Micro Questo grafico Era per la perfezione Per andare a salire Candellina Micro Sulle medie mobile Incastrato Fra la 5 E la 10 Spettacolare Invece Niente da fare Sta corollando Proprio tutto Anche Phil Phil che era messo bene Per andare A sfondare A 60 Niente Stiamo andando Verso gli abissi Anche Phil Va verso gli abissi Ata Siamo solo A più 3.000 Per cento Comunque Sta scendendo tanto Sta scendendo tanto Stiamo a 1.3 Poi c'è Sol Sol che Stava mostrando Molta potenza Ah poi c'era Il super titolo Di ieri Vediamo In positivo Dovrebbe essere Tfuel Tfuel Ha sfiorato I massimi storici Ieri Prima dell'inversione Questo ti fa capire Che quando c'è panico Succede questa cosa qua C'è l'inversione Anche su chi va su Allora qui Praticamente ha sfiorato Allora è andato Sopra il corpo Qua Sopra il corpo Massimo E Ieri Ha fatto sto spike Che ha quasi fatto I massimi storici Ha sfiorato Al millesimo I massimi storici E Niente Poi dopo Dalle 22 È 30 Poi è crollato giù Quindi ha fatto Sta mega finta 55 A fine Ha chiuso a 47 Eh però Qua sta tenendo Tfuel Interessante Sta tenendo Sta facendo candela verde Qua dalle 2 Sta facendo candela verde Ok Devo tenere d'occhio Tenere d'occhio Tfuel Molto molto forte Comunque siamo sui massimi storici Interessante Ok niente Questo è solo Per quanto riguarda Cripto Visto quello che sta succedendo A bitcoin Torniamo un attimo A vedere Ho un minuto Perché qua siamo Sulla 60 Vedo che Sta per andare giù Ok Ha fatto la super finta Quindi guardare Sempre 5 minuti Siamo lontanissimi Dalla 60 30 minuti Che ve lo dico a fare È ancora più distante Quindi In caso di rimbalzi Capiamo che È una giornata no Quando il sistema Binance Sta Sta mettendo Un sacco di tempo Molto male Molto male Vabbè Niente E Chiediamo qua il video Vi dico semplicemente Ricordiamoci che Quando rimbalza Finché Sta sotto Nel time frame 30 minuti Sotto alla 60 Siamo comunque In trend negativo Ok Quindi non fatevi fregare Dai rimbalzi Anche potenti Che possono arrivare Sfiorare O anche toccare L'EMA 60 Nel time frame A 30 minuti Ma se ne rimaniamo Sempre molto Molto negativi Qua se è ingriccato Deve riviare Quindi finiamo qua Ciao ragazzi Fate attenzione Potrebbe essere giornata Di super schiaffoni Grazie a tutti